E come ogni anno insieme alle rondini tornano anche le fiere di mezza quaresima a Sansepolcro, senza dubbio l'appuntamento di primavera più atteso non solo dai biturgensi ma anche un po' da tutti gli abitanti della vallata che gremiranno nei prossimi giorni le vie del centro storico. Dal 22 al 25 marzo saranno ben 218 gli esercizi che allestiranno i propri negozi ambulanti nelle tradizionali tratte di via Nicolo Aggiunti, via 20 Settembre e via Le Diaz. Una fiera che da quest'anno diventa sempre più internazionale, infatti la novità di questa edizione è la presenza di nove ospiti provenienti dalla città gemellata di Neve Maisons, comune francese della Lorena, che esporranno le manufatture tipiche della loro regione a Porta Fiorentina. Mentre in piazza Torre di Berta saranno installate tre postazioni dedicate alla cultura teutonica, che proporranno cibi e pietanze tipiche di Germania e Austria. Ma non mancheranno i soliti banchini, stand di artigiani e aziende locali, che per l'occasione mettono in mostra l'alta qualità delle produzioni nostrane. Porta Romana, come sempre, sarà la zona dedicata agli hobby e ai piccoli artigiani, mentre Viale Vittorio Veneto ospiterà auto e moto in esposizione, oltre ai vari gazebo dedicati all'edilizia. L'ampio parcheggio di Porta del Ponte sarà come sempre dedicato alle macchine agricole. Immancabile inoltre la Fiera del Bestiame, la vera fiera tradizionale, quella dedicata alla vendita e disposizione di animali, organizzata quest'anno dall'Unione dei Comuni, come sottolinea Marcello Minozzi, una ricorrenza antichissima che pare avesse luogo già nel Quattrocento. Grande il flusso di turisti previsto anche in questa occasione. Per quanto riguarda l'abituale problema della viabilità in questi giorni caotici, l'assessore al commercio Chiara Andreini ha annunciato un accordo tra l'amministrazione comunale e la famiglia Pincardini, che metterà a disposizione il parcheggio delle piscine, sia per i residenti del centro storico, sia per i visitatori, con la sorveglianza della protezione civile.